buongiorno a tutti oggi vi spiego le amplificazioni fatte bene e le coglionate tipo yaku face allora questo è un finale dual mono e c'è due accensioni tutto totalmente separato sono due amplificazioni separate totalmente due accensioni una per canale e le due circuiti diversi allora andando il ferro è ottimo per schermare non vendono le le coglionate come yaku face più non c'è il relè quando se non c'è il relè qua c'è un'ottima capacità di alimentazione questi sono i condensatori in parallelo di un canale cablaggio vande nulle vedete le barre di rame come sono le vidi tutto questi sono condensatori grandi 4 per canale è sull'altro canale sta qua qualsiasi ingegnere dice che più la capacità è grande e meglio è però devono essere molti e piccoli qua ce ne sono molti ma grandi gli accu face ce n'hanno uno grande come questi per canale uno per tutto questi sono i trasformatori 2 1 per canale adesso vi faccio capire meglio le dimensioni sono come un gd adesso vedete grandi come un gd l'uno qua ci sono condensatori sul percorso del segnale a film metallico con dolleranza 1 per cento non come gli accu face che sono pieni di elettrolidici quelli a quattro soldi qua niente elettrolidici qua anche le resistenze sono buone qua questo c'ha 544 mila micro farad di alimentazione che significa che che tutta dinamica qua dentro è come un serbatoio della macchina anziché il carburante c'è la corrente quando c'è il picco di dinamica e la prende qua dentro la la corrente se non c'è il serbatoio non c'è la dinamica 55 amberre d'uscita no di entrata e poi ci sono qua vendimo sfettitaci degli anni ottanta quattro allora ci sono i k 135 j 50 hanno 100 watt l'uno 100 watt per 20 dopo in classe a resa 20 per cento diventano 200 watt invece che 2000 capito così funziona adesso stanno a risparmiare pure le viti massima resa e massimo guadagno risparmiano dappertutto poi dopo non suonano cioè uno perché deve comprare una cuffia se tutti quei soldi fatto al risparmio si va sul vintage santo dio ci sono cose fatte bene di bui forte o non so anche questo qua c'ha i mosfet il mark levingson la metà di questi qua questi non so da 100 watt saranno a 50 watt l'uno e che vi devo dire non comprate gli accuffese perché non valgono un cazzo vi saluto all'altro l'abbiamo